Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate. Ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria non ci possiamo permettersi di non dimostrare l'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Në shorbime të rëndishtme si jene si zirre animacionit, si pneumolog, dhe duan që t'jen modeli asaj që ne kërkojmë gjithmon nga miekat. Modeli i herojnve, herojnve t'heshtur, po që n'sakt janë sot parat në betej me Covidin, me ktar mit t'heshtur. Jan nga gjith Shqipëria, jan nga Shkodra, jan nga Durst, jan nga Irbasani, jan... Grazie.